8 febbraio 1587. Maria Stuart viene giustiziata nel castello di Fotheringhay. La cattolica regina di Scozia muore sul patibolo accusata di tradimento da sua cugina Elisabetta I di Inghilterra. Il dramma della sovrana scozzese ispirerà il drammaturgo tedesco Friedrich Schiller che nel 1800 scriverà l'opera Maria Stuart successivamente musicato da Donizetti.